Lance Armstrong anche quest'oggi brillantissimo comunque c'è accordo tra i due vedi che comunque Pantani è passato al comando adesso è ritornato Armstrong al comando e la logica come ha detto Felice dovrebbe essere vittoria Pantani e maglia gialla sempre più gialla per Lance Armstrong un chilometro e mezzo Armstrong e Pantani ci auguravamo un arrivo in solitario dopo quello scatto ai tre dal traguardo ma anche quest'oggi Armstrong con un'accelerazione eccezionale è riuscito a riportarsi sul pirata parte Armstrong, attenzione parte Armstrong fa bene a farlo andare a questo punto qua non deve andare fuori giri Marco sarebbe troppo rischioso per lui a questo punto qua va bene, Armstrong è più forte, ok lasciamolo andare oggi poi io credo che questa differenza andrà sempre più appiattendosi ma non lo lascia andare, non vuol mollare a costo di andare fuori i giri manca un chilometro, manca un chilometro e Pantani si è riportato sotto Marco in queste occasioni riesce a dare tutto anche di più, è uno che riesce a sopportare il male la fatica, il mal di gambe, il fiatone riesce a sopportare tutto quando vede il traguardo lì prima di tutti gli altri una battuta di Pantani dopo la tappa di Lourdes da Cam ha detto ma questo Armstrong è figlio di quello che andò sulla Luna da tanto grande era la superiorità dimostrata a Lourdes mentre quest'oggi stanno correndo sullo stesso livello Armstrong e Pantani Armstrong naturalmente in classifica generale a un margine considerevole oltre 10 minuti di vantaggio l'obiettivo per l'americano era quello di acquisire ancora secondi su Jan Ulrich l'obiettivo è raggiunto ma a Pantani a ruota un Pantani che ha avuto un momento difficile due momenti difficili in questa salita ed è riuscito a superarli con grande forza, con grande volontà ma direi anche due momenti di intelligenza tattica esigenza tattica è stata quella di non andare fuori giri perché questa è una montagna micidiale che se sbagli avrebbe pagato caro prezzo personalmente sono già molto soddisfatto di quello che sta avvenendo sia che vinca e che non vinca la tappa non pensate che stia blefando è la verità perché abbiamo davanti ancora le Alpi pochi si aspettavano comunque un Pantani come quello di oggi come quello di oggi no però io ero convinto che lui avrebbe risposto era troppo motivato, era troppo concentrato è venuto qui, ha lavorato bene quindi c'era da aspettarsi comunque un uomo che sa difendersi telecamere fisse per immortalare le gesta di questi due campioni del ciclismo Lance Armstrong e Marco Pantani Marco Pantani a caccia della sua settima vittoria di tappa al Tour de France notate lo spettacolo, la folla presente su queste strade della Provenza dai piedi del Vantù fino alla vetta 1909 metri Pantani sta soffrendo per lui uno sforzo in mane ricordiamo che è rimasto lontano dalle gare per quasi un anno e si è presentato al Tour con 23 giorni di gara dopo aver faticato moltissimo al Giro d'Italia dopo essere stato protagonista nella tappa di Brianson aiutando Stefano Garzelli siamo in vista del traguardo, non ci sono i cartelli non c'è l'ultimo chilometro per il forte vento Armstrong e Pantani si stanno giocando questo successo sul Mont Ventoux Ulrich all'ultimo rilevamento aveva 30 secondi di ritardo forse perderà ancora qualcosa il tedesco quindi il vantaggio di Armstrong in classifica potrebbe arrivare a 5 minuti siamo alla curva conclusiva Armstrong e Pantani Pantani cerca di superare Armstrong sono appaiati in questo momento e Armstrong da grande campione lascia tagliare il traguardo a Marco Pantani e vai Marco e vai è tornato è tornato Pantani primo sul Mont Ventoux vediamo chi arriva terzo dovrebbe essere Joseba Belocchi Joseba Belocchi spagnolo della festina il ritardo è intorno ai 20 secondi in questo momento a 24 secondi Belocchi e a 28 secondi Jan Urrich è tornato il pirata si è rimposto nel 95 all'Alpe 2S a Gusenegh nel 97 ancora all'Alpe 2S poi a Morsin e nel 98 il giro del trionfo a Plateau de Bay e a Deux Alpes quest'oggi al Mont Ventoux arriva Santiago Botero 45 secondi più tardi di Pantani poi Roberto Eras più di un minuto di ritardo per Richard Viran che tappa Davide? è stata fantastica Pantani ha corso non ha sbagliato nulla sotto l'impulso degli uomini dell'OS Postal poi di Ulrich si è staccato ha perso 20-25 secondi ma non si è dato per vinto e quando ha visto gli avversari lì è riuscito a riportarsi sotto e lì gli si è moltiplicata la forza la determinazione il coraggio è partito ed ha vinto meritatamente comunque bravissimo anche Mansebo il giovane il giovane che veste la maglia bianca della Banesto poi è arrivato anche Manuel Beltran arriva Van de Wouver il belga della Lotto siamo quasi ai limiti dei due minuti arriva anche Laurent Jalabert perse otto minuti a Dota Cam a quest'oggi si è difeso meglio il francese sono arrivati comunque stremati io ho avuto l'impressione che sia Armstrong che Pantani siano arrivati stremati forse qualche energia in più per Armstrong che non ha nemmeno tentato lo sprint però Pantani per quel sorpasso nel finale non ha avuto il tempo nemmeno di alzare le braccia arriva Daniele Nardello bravissimo ancora una volta il corridore di Varese vincitore quest'anno del trofeo la Igueglia arriva anche Daniele Tienza della Saeco una tappa memorabile sta per tagliare il traguardo anche Conti splendido Gregario di Casa Grande al Giro d'Italia Fernando Escartin quest'oggi debacle per lo scalatore spagnolo arriva anche Alex Zulle un ritardo che si aggira sui tre minuti là in fondo Leonardo Piepoli la Benesto è proprio sparita hanno fatto il tempo hanno tirato fino all'imbocco della salita poi prima Zulle poi Jimenez sono letteralmente crollati non ho capito questa tattica vediamo vediamo la maglia a cua di Savie Ochoa bravo Conti tre minuti e dodici in ritardo Savie Ochoa con Epner poi sta arrivando anche Leonardo Piepoli il trullo volante lo scalatore pugliese che milita nella formazione spagnola Banesto ma quest'oggi è il giorno di Marco Pantani tornato al successo dopo oltre un anno e in una tappa storica una tappa significativa il Mont Ventoux è la settima vittoria per Marco Pantani al Tour aveva già vinto due tappe nel 95 poi ne aveva vinte altre due nel 98 e altri due nel 97 vediamo Laurent Dufault Dufault in crisi ad Otacama quando giunse con 27 minuti di ritardo vediamo sulla destra Peter Luttenberger austriaco della Onze Luttenberger era quinto in graduatoria generale una posizione che naturalmente perderà arriva anche Christophe Moreau il ritardo superiore ai 4 minuti per questo gruppetto è molto bravo Trentin il giovane Trentin della Vini Caldirola Sidermec anche questo oggi ha limitato i danni ma soprattutto ha corso con uomini di classifica primo Marco Pantani tempo 4 ore 15 minuti 11 secondi 11 secondi una media di 35 orari rivediamo quello che non si può nemmeno definire uno sprint lo sforzo di Pantani stremato sul Mont Ventoux dopo due recuperi straordinari e Armstrong che si lascia superare sarebbe stato comunque incerto anche se si fosse trattato di uno di uno sprint alla morte perché sia Pantani che Armstrong sono veloci e poi dopo 149 chilometri bisognava vedere chi aveva ancora più energie in corpo ma io penso che comunque Armstrong abbia corso alla grande ha marcato Ulrich che riteneva questa mattina il corridore più pericoloso gli è stato a ruota quando ha visto che Ulrich non ce la faceva più è scattato è partito è andato in seguimento di Pantani lo ha raggiunto ma in quei 500-600 metri è andato fortissimo ha speso comunque anche lui qualche cosa anzi più di qualche cosa è riuscito a raggiungere Pantani sono andati via di comune accordo e alla fine probabilmente non ha fatto la volata e questo dimostra la grande classe di questo corridore ma è anche abbastanza normale di solito chi ha la maglia non fa la volata per una vittoria di tappa anche Pantani due anni fa arrivò con Ulrich e arrivò secondo ma la cosa più importante comunque è che oggi Pantani è ritornato l'ultima sua vittoria era quella di Madonna di Campiglio il 4 giugno e dopo due anni è riuscito a vincere al Tour de France noi possiamo tenere la linea fino alle 16 e 33 stanno arrivando altri atleti vediamo Jon Odriozola poi altri due corridori della Kelme vediamo Jens Folt poi sta recuperando anche Miguel Angel Pegna sulla destra Bogart distacco di 6 minuti e 44 4 e 4 e 4 Grazie.